ehi ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi siamo su arc evolve sono nella selezione del personaggio perché con noi oggi c'è laurens 98 si presenti ciao a tutti ragazzi allora devo fare il personaggio come lo faccio simile a me occhi azzurri capelli pioni 6 che se ne frega lasciamola così avevo già caricato ho già provato questo a giochicchiere due secondi perché io non so niente l'ho appena comprato e via ci aspetta aspetta in quale istone 1 istone one aspetta dietro ai seguaci i miei fans dica perché dobbiamo farlo praticamente insieme dobbiamo cliccare insieme creato il mio survival perché se non lo schiacciamo insieme listo zone one è molto grande quindi se non clicchiamo insieme non ci fa spawnare vicini e quindi in gioco ho anche scelto un server di notte quindi non ci vedremo inizialmente però io ho scelto il ping quello col ping più basso three two one via ok ho cliccato quando ha detto via ragazzi vi avverto lagga un po magari aia aia un cobra un cobra ma si può ma che cazzo di sfighe di merda non c'è vero hai ragione non si vede una cippa ma lo sai che io sono morto sono stato ucciso da un titano boa ma non mi è mai capitato io io sono sono dentro l'acqua no ti giuro non mi è mai capitato sono stato ucciso da un titano boa ma che cazzo di sfiga c'è proprio mi stava attaccando ma che sfiga è oh c'è proprio mi si inizia stra bene allora eh no allora ragazzi aspetta io sono spawnato di nuovo non so però quanto siamo vicini aiuto 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 cosa oh madonna santa sono morta anch'io sempre pericolo ma il titano boa livello 72 ma perché quale allora aspetta allora fammi uccidere non spawnare no facciamo weston 1 aspetta fammi morire muori ora vado a vedere le profondità marie che bello siamo morti ed è la prima puntata pensa un po te questa roba qua puoi la togli questa serie la porterà avanti sia con lui che io stessa alcune volte tanto entreremo nella stessa tribù quindi io potrò accedere alle casse lui potrà accedere alle mie quindi diciamo se non mi sia posto cosa sto soffocando allora weston 1 si 3 no aspetta devo fare porca miseria moscellino respawno random random location si in weston 1 ok 3 2 1 via ok ragazzi mettiamoci in assetto di combattimento titano boa che mi attaccano spinosauri oh aspetta mi è passato un qualcosa davanti ho una cosa in testa ho una cosa ok su dove sei non ti muoverai da lì non ti muoverai da lì togli su ok ok su ti ho visto non corro perchè non giocare ero penetrata con un dinosauro vediamo che dinosauro è mi ci avvicino piano 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 madonna santa no 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 guardate che bello voi non vedete niente ma io lo vedo eh ma sei solo a livello 4 si non provare a attaccarlo ma ti sei ma sono mica così scema allora ragazzi con ma sei tu? aspetta non riesco a fare quella cosa lì ah aspetta no no fermo ti voglio fammi entrare nella tua tribù lo faccio io faccio io eh appunto fai tu ok come già eh eh si sei nella mia tribù vuola perde si il tuo nome adesso è ok allora raccoglio un po' di sassi in giro un po' di sassi in giro allora ragazzi la roba si raccoglie premendo è per terra quindi uno due non vedo niente neanche io ma io schiaccio è e vado avanti ah cosa stai facendo? sto facendo del male ah che spavento ah già è vero che qua se prendete il legno no è proprio è proprio survival cioè all'inizio è proprio realistico all'inizio metti vabbè il fatto che tu spawni in una zona in un'isola sperduta non tanto è realistico però ah che cos'è 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 aiuto aiutami aiutami non voglio marire di nuovo non voglio marire di nuovo non voglio non voglio ma io non l'ho attaccato io non vedo nulla beh è attaccato fermo che spavano di nuovo lì no adesso anch'io lo devo uccidere no fermo ma un cazzo di vita ahhh anche la serie maledetta eh anche non è successo queste cose prima cazzo vai a attaccare i brontosauri ma io non vedo nulla non vedo nulla se apro la mappa dovrei vederti vero? no non ti vedo no 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 è proprio realistico cioè tu non hai non sai dove siamo nella mappa no 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 triceratopo no no cammino triceratopo bello triceratopo eh bello bello non so dove tu possa essere ho trovato un dodo non so dove tu possa essere sempre in western cammina sulla costa vai verso quella luce che c'è tu diciamo il quel il rombo allora dimmi un tuo punto di riferimento tipo la luce col rombo dove la vedi? guarda che adesso non la vedo almeno più però stai vicino al mare sono a fianco alla costa wow senza le criolla vedi vedi una luce bianca tipo che sta che sprizza in cielo eh si dove la vedi? davanti a me oh cazzo devo fare tutto con la strada oh merda aspetta tu dove ho trovato un brontosauro no ma non credo sia quello guarda un po' se è quello livello? 72 no 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 perdono perdono mi allontano mi allontano mi allontano mi allontano non c'è la con te se tu li stai sotto eh non importa io li conosco i brontosauri ma sai non si sa mai salite di livello anch'io bene ragazzi cosa succede su ark quando salite di livello vi danno degli engrammi vi danno dei punti e voi con questi punti potete sbloccare degli engrammi degli engrammi come su su destiny che bello si ok dato che io ho sentito un loro io qua dove sono io pieno gli loro si ma non sei pieno o punto no 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 che schifo che schifo no 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 che schifo che schifo io sono la Rocco famiglica no no Dio 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 Dio. Dio 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 Che schifo Ma che schifo Stammi lontano Stammi lontano Stammi lontano Stammi lontano Corri col tab Cosa sta succedendo No no Che schifo Quando è che muori? Ammazza Ti rispondiamo vicino Mi è morto Ma che merda Che merda Che merda Che merda Che merda Vabbè è molto realistico Però devi ammettere Ma cosa Ho fatto partire 400 programmi Che sto combattendo Contro Contro Un Un tricciato Poi me la sto anche Cavicchiando Oltretutto A mani nude Oltretutto Cioè voglio solo dire Aia Mi ha un po' fatto male Ok Ok Allora Abbiamo zona Westzone 3 Ok Prima ci avevo portato bene Ragazzi 3 2 1 Via Hai fatto random location Sì certo Ma che merda Ma io devo iniziare Tutta la serie Dove devo morire Come un blastoff Quasi giorno Ma siamo vicini Alla neve Eh lag 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 Ma sempre in acqua dobbiamo Io non sono spavolato in acqua Ho un problema Ok Come cancello la roba Ok è andata via Tu dove sei? Uh Un'acqua Lo so che è freddo Cara Sto provando A allontanarmi Il primo possibile Io sono dentro l'acqua E sopra di me Ci sono De condor Credo C'è una tigre Più tigri Credo di sì Non lo so Ci sono tanti condor Un aquilare Un gatto Un topore Un elefante Non manca più nessuno Mi sono incastrata Dentro i pezzi di lei Ma cosa? Tu non hai idea Di quanto mi sei spaventato Ma che cazzo Ma basta Ma basta Cosa so Che sa per tutte È una tigre Ah dai denti a sciabola No lasci volare No ma Che merda Che merda Ti scongioro Mi guarda dove Dove mi ha spaventato Mi ha spaventato lassù Io voglio essere spaventato Qua giù Dove sei quassù? Mi spaventiamo Aspetta che Vai sempre Voi ston Zontre Ma prima eravamo a posto Perché hai dovuto picchiare Quel brontosauro? Oh Ho defecato È pieno È pieno Cristo Cristo Mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto Scappa 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 Mi chiami Senta che è quello Che ci ho pentato Prima Sì Mi sono cagata Troppo Addosso Ma che cazzo È successo? No ma tu sei Che erano Che erano Che erano Lontane Dove sei? Spawniamo un attimo Aspetta Sei in western zone 3? 3 3 Sì Respawn Random location Dimmi dove sei Dimmi dove sei Muori 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 Attaccano Va bene Aspetta Aspetta I believe I can fly Bam Mi sono ammazzata Mi sono pluggata dentro la pietra Senti Cambiamo zona Facciamo No Facciamo il season 1 È il meglio Va bene 3 2 1 Via Mia Se io incontro di nuovo Quell'anaconda Io giuro che mi ammazzo Guarda che è giorno almeno Allora no Spiaggia libera Quindi a meno che non ci sia Spiaggia Branco di dinofusauri Ok Tartaruga Fortezza Dodo 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 no Mi manca il dodo Io qua sono piena di dodo Altro Altro oltre il dodo Eh c'è una fortezza dentro l'acqua Perfetto Ma io la vedo da davanti Cioè nel senso So dove sei Io un po' più lontano Vediamo Una fortezza bella grande Sì Dentro l'acqua proprio Pietre wood Dentro Sì dentro Ti ho visto Ottimo Allora ragazzi Io mi aumento Il peso in più Mi faccio L'accetta Lea Engram In più Mi faccio anche la Spiar Devastante Ah che Che Dio santo Siete proprio brutti Allora Devo per fare Prima un piccone Mi serve Una pietra One stone Basta che Opa Eh 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 Dodo Sono Prendiamone un po' di Eccoti Non lo uccidiamo Non lo uccidiamo No Ce n'era una femmina col cuore Prima 10 stone Allora Facciamoci un bel Piccakes Crafty Che poi che cosa ho detto Che era craft Item Ma comunque Ho defecato di nuovo Allora Qua Oh senti Non è colpa mia Se scappa Scappa È la natura Allora Col piccone Possiamo prendere Zero Possiamo prendere Da queste rocce Altre rocce E la flint Tre flint Come vedete Due stone E un one metal Ho preso un metallo Tienitelo In modo parsimonioso Oh mio di Esplose la roccia Tranquille Sono io l'artificio Di questa ulcata Ma che cacchio dici Se l'ho spaccata Io la piego Allora Invece col piccone Ci da il touch Se ne serve In grande quantità Perché rompendo Mani nude O comunque col piccone Non da Molto legno Dipende Però se adesso Noi ci facciamo La bellissima Oh sto piovendo Accetta Craft item La torcia Me la faccio dopo Per la spear Mi servono le fibre Le fibre Si raccolgono Prendi tante di quelle fibre Da stare male Ok Allora Stavo dicendo Le fibre si raccolgono Cliccando E Senza nessun oggetto in mano Dentro i cespugli Però prima Voglio prendere Un po' di Oppure con Qualche oggetto in mano Per esempio Con la torcia Con la torcia posso Mi ha dato più legno Sto coso qua Vabbè E' una cosa importante Ragazzi Quando morite L'esperienza Si mantiene Però Ah E' crollato Finalmente L'esperienza si mantiene Però Le oggetti che avete Naturalmente No Soldata No Signale Di 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 Grazie a tutti